Andrea Sottil medita di ripartire dal secondo tempo di Venezia, non solo per il carattere mostrato dalla squadra, che è un aspetto comunque imprescindibile, ma anche per l'assetto tattico. Lo ha detto il tecnico biancazzurro dopo la gara del Penzo, giocare con la difesa 3 è nelle possibilità della squadra e in questa direzione ha lavorato nelle poche sedute di allenamento che precedono il match fondamentale di domani contro il Frosinone. Qualora Sottil opti per questo sistema, Bettella e Scognamilio saranno le certezze, poi ballottaggio del grosso Drudi, nel primo caso Scognamilio sarebbe il centrale del terzetto, altrimenti lo sarà Drudi. Mentre a centrocampo si farebbe di nuovo a meno di Palmiero, con Castanos e Busellato a contendersi una maglia al fianco di Memushai. Meno dubbi davanti, dove Clemenza prenderà il posto dello sporificato Galano per completare il triocon Pucciarelli e Magnero. Recuperato per andare in panchina Melegoni, mentre saranno ancora out Bogino e il baby Pavone, oltre alla solita schiera di Lungo De Genti. Sul fronte Frosinone il tecnico Onesta dovrà fare fronte a diverse assenze, Ardemagni è squalificato, infortunati e fuori per almeno una settimana Gori, Salvi e Delia. Sono da valutare ma è difficile il loro recupero, Maiello, Tabanelli e Capuano. Quest'ultimo, Pescarese, è uno degli ex della partita, con il biancazzurro addosso ha vissuto la promozione in bicon di Francesco e quella in A da protagonista con Zeman, con tanto di debutto nella massima serie, per un totale di 95 presenze. L'altro ex sarà invece tra i titolari, Francesco Zampano, il laterale genovese che ha una promozione in A con il Pescara di Oddo nel 2016 e 128 presenze totali in biancazzurro. Posizione di classifica e obiettivi diversi, ma all'Adriatico Cornacchia si affronteranno due squadre in palese difficoltà. Il Pescara è in zona play-out, ha totalizzato sei punti dopo il lockdown e nel complesso ha una vittoria nelle ultime otto partite, a cavallo della lunga sosta. Anche il Frosinone ha vinto una sola gara nelle ultime otto, ha abbandonato i sogni di promozione diretta col secondo posto, ora è sesto e deve difendere i play-off, migliorando semmai il posto nella griglia. Quello di domani sarà il quinto confronto all'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Frosinone. Nei quattro precedenti il Pescara ha vinto una sola volta nel 2014 con Baroni in panchina e Magnero in campo e anche in gol nel pesante 3-0 in cui andarono a segno anche Melchiori e Pasquato. Una affermazione anche per i ciociari nel 2006 0-2 con le firme di Di Nardo e Lodi ed un rigore fallito da Ferrante sullo 0-1. Due i pareggi, 1-1 nel 2011, Sansovini al 95esimo riacciuffa Masucci ed il pirotecnico 3-3 del 2017. Biancazzurri avanti di tre reti, tutte siglate da Pettinari, poi la rimonta Ciociara con due golle di Ciano e uno di Daniel Ciofani. A dirigere l'incontro sarà un arbitro abruzzese, Federico Dionisi della sezione dell'Aquila, omonimo dell'attaccante del Frosinone. Secondo Animbì, con il debutto lo scorso anno in Serie A in Sassuolo-Sampdoria, Dionisi non ha alcun precedente con Pescara e Frosinone.